E poi la prima apparizione è questa, è stata lunedì 25, mi ha osservato una voce che mi chiamava Vincenzo. Io quando la vedevo, io cadevo di piombo al suolo. La mia infanzia non è stata molto semplice. Lei a un modo suo, con delicatezza nel tempo, toccava le mie ferite. E a quel punto io ho cominciato a guardarmi in faccia. Ora io potevo scegliere. E io ho scelto, ho ascoltato il mio cuore. Vincenzo, l'unico peccato è la mancanza di amore.